Salve a tutti, sono l'ingegner Sara Banchieri di Aedes e con questo video vi vogliamo mostrare un esempio applicativo dell'uso del software ACM 2017. Analizziamo il caso di un intervento locale in cui abbiamo inquadrato un progetto di ristrutturazione di una villetta in cui è stata richiesta la modifica di due aperture. La villetta come possiamo vedere da questa sezione vede tre piani fuori terra, una pianta rettangolare e gli interventi si concentrano in particolare al piano primo. Possiamo vedere che verrà modificata una parete esterna in cui verrà realizzata una nuova finestra per la realizzazione di un nuovo bagno e verrà modificata una porta di un maschio interno che verrà allargata. Avremo quindi nel nostro file di progetto due cerchiature e due pareti che possiamo inserire qui e potranno essere anche modificate successivamente. Per quanto riguarda i parametri sismici in questo caso sono stati inseriti ma non sono prettamente necessari perché stiamo analizzando l'intervento locale quindi non un miglioramento e quindi potremo anche saltare questo passaggio. Analizziamo quindi la prima parete. Andiamo a inserire i dati di progetto, i dati dello stato attuale e lo stato di progetto. Per quanto riguarda la prima parete possiamo vedere che è lunga 8 metri, spessore 300 mm e altezza pari a 3 metri. Andiamo quindi a inserire i dati nel software. Per quanto riguarda il piano della parete e la quota di base questi dati anche in questo caso non sono prettamente necessari perché siamo nell'intervento locale. Il vincolo di sommità dei maschi può essere definito rigido, flessibile o intermedio. Nel nostro caso scegliamo rigido quindi modellando la moratura con un doppio incasto. La moratura è una moratura a mattoni pieni con livello di conoscenza LC1 e il fattore di confidenza 1,35. Per quanto riguarda i carichi ne è stato implementato un foglio di calcolo di Excel che ci può aiutare con un'analisi dei carichi a determinare qual è il carico totale in sommità nelle varie combinazioni di carico. In questo caso sono stati già inseriti i dati di progetto. possiamo vedere che sono stati inseriti il numero di piani che in questo caso è 3. Ricordiamo che è sempre necessario attivare le macro in Excel. Abbiamo inserito la larghezza del maschio che in questo caso è 8 metri e i dati dei solai. Infatti possiamo vedere che per quanto riguarda i solai per questa parete abbiamo una dimensione ortocanale del solaio pari a 4 metri sia al piano interrato che al piano primo, una direzione del solaio perpendicolare alla parete e con 100% del carico. Per quanto riguarda le morature necessarie per determinare il peso proprio della moratura possiamo vedere che al piano interrato sono stati settati 2,92 m di altezza di interpiano, uno spessore di 0,3 e un peso proprio della moratura a mattoni pieni di 19 kN al metro cubo. Per il piano 2 abbiamo 3 metri di interazze e dati simili al piano interrato. Per quanto riguarda la copertura abbiamo inserito un muro di sottotetto pari a 0,86 m, spessore sempre 0,3 e con una dimensione ortocanale del solaio che possiamo vedere dalla pianta della copertura che è pari a 6,80 m. Per quanto riguarda i carichi sono stati inseriti carichi che sono stati determinati con una analisi dei carichi in cui abbiamo determinato i pesi propri, i permanenti e gli accidentali e sono stati inseriti per ogni piano in queste caselle grigie che sono quelle da riempire effettivamente. Per quanto riguarda l'ipsi 2,1 abbiamo messo 0 all'ultimo piano in quanto abbiamo solo il carico neve. Il piano della parete oggetto dell'intervento in questo caso è il 2, l'altezza dell'apertura è 2,40 m totale e adesso dalle caselle gialle possiamo direttamente estrapolare i dati che ci servono, in particolare per le pareti che stiamo analizzando. Abbiamo un carico totale pari a circa 350 kN per quanto riguarda l'SLU e 203 kN per quanto riguarda la condizione sismica. Andiamo quindi a inserire 350 e 204. per quanto riguarda le aperture andiamo a inserire l'apertura che attualmente è presente. Vediamo che è posta a 2,95 m dall'estremo, l'arca 1,40 m, l'altezza è 1,50 m e la distanza da terra e 900. Per quanto riguarda il criterio di definizione delle zone rigide ipotizziamo una distribuzione con diffusione a 30 gradi secondo la teoria di dolce. Per quanto riguarda lo stato di progetto possiamo cominciare copiando lo stato attuale sia per quanto riguarda i dati, la muratura e anche i carichi che in questo caso non cambiano. Andiamo a inserire adesso l'apertura allo stato di progetto, la nuova finestra. Vediamo che questa si colloca a 6 m dal bordo e allarga 1 m. L'altezza è sempre 1,50 m e distanza da terra 900. Per quanto riguarda l'ipotesi di calcolo si possono lasciare quella default. In questo caso è stato selezionato una riduzione delle rigidezze dei maschi morali pari al 50%. Per gli altri dati possiamo lasciare quelli di default. Vediamo quindi che senza un adeguato irrigidimento della nuova finestra l'intervento di riparazione locale non può essere soddisfatto. Andiamo quindi a determinare la cerchiatura della finestra che dovrà essere inserita. La larghezza abbiamo detto che è 1 m, altezza 1,50 m, si parla sempre di dimensioni nette, la muratura è 300 ed è in mattoni pieni. Andiamo a provare a inserire sia per le architravi che per i montanti 2 HE a 140. E in questo caso, visto che è una finestra, andiamo a inserire gli stessi profili anche per il traverso inferiore. Per quanto riguarda i carichi possiamo riferirci direttamente al file che avevamo aperto già prima, in quanto ci fornisce anche i valori dei carichi che dobbiamo mettere sull'architrave. In questo caso si possono distinguere più casi. Possiamo andare a considerare la distribuzione triangolare dei carichi oppure andare a considerare la porzione di muratura rimanente fra l'architrave e il solaio superiore. Inoltre, in questo caso, a seconda della distribuzione delle aperture sfrastanti, possiamo andare a considerare solo il carico del solaio e della muratura, oppure andare a considerare tutto il carico che è presente sopra il maschio che stiamo analizzando. In questo caso, scegliamo la terza opzione. Andiamo quindi a mettere 48, 35 e 29 kN. Per quanto riguarda il calcolo, per l'architrave il vincolamento è considerato quello di appoggio a appoggio. Le opzioni di calcolo prevedono l'influenza della deformabilità a taglio per l'acciaio e scegliamo di non utilizzare l'opzione del telaio a portale e quindi considerare la deformabilità effettiva del traverso inferiore. Per quanto riguarda i giunti, in prima analisi consideriamo giunti rigidi e sovraresistenti sia per la base che per la sommità. Andiamo quindi a inserire nelle pareti la cerchiatura così calcolata. Vediamo che l'intervento di riparazione locale è soddisfatto. Abbiamo ripressionato la rigidezza della parete. Andiamo adesso ad analizzare quello che succede per il giunto di sommità, in quanto in questo caso abbiamo scelto di realizzarlo bullonato. Vogliamo vedere qual è l'effettiva rigidezza e l'esistenza di questo giunto. Andiamo quindi a scegliere bullonato e in questo caso ci viene segnalato che i dati geometrici non sono corretti perché sono impostati quelli di default. Andiamo a mettere i rigendimenti verticali nella trave e andiamo a vedere i controlli geometrici. vediamo che, aiutandoci con la grafica, in questo caso la distanza dal bordo del bullone è troppo grande e non vengono soddisfatte le verifiche di distanza dal bordo del bullone. Andiamo quindi a diminuire la distanza dal bordo e andiamo a inserire una piastra di 10 mm con dei bulloni M14. Vediamo che i controlli geometrici sono soddisfatti. Per quanto riguarda la classificazione del giunto, vediamo che il giunto così realizzato viene calcolato come semirigido e a parziale ripristino di resistenza. La curva di capacità della cerchietura viene quindi calcolata considerando anche la crisi del giunto di sommità e l'effettiva rigidezza del giunto. Andiamo a vedere cosa succede nella parete. Nella parete dove avevamo una verifica soddisfatta, adesso, considerando l'effettiva rigidezza del giunto, la verifica di riparazione locale non è soddisfatta. Andiamo quindi ad analizzare il giunto in particolare e a modificare le caratteristiche così da avere un giunto rigido. Vediamo nella classificazione del giunto che le componenti che influenzano la sua rigidezza sono quelle con K diverso da infinito e quindi sono la piastra solicitata a flessione e i bulloni solicitati a trazione. Quindi modificando queste due componenti dovremo riuscire a irrigidire il giunto. Andiamo quindi a mettere una piastra di 20 mm e dei bulloni M16. Vediamo che adesso la classificazione del giunto ci fornisce un giunto rigido. Vediamo come è modificata la curva di capacità e andiamo a vedere quello che succede nella parete. Adesso la verifica di riparazione locale è soddisfatta e abbiamo tenuto conto anche dell'effettiva rigidezza del giunto. Rimandiamo al prossimo video per l'analisi della seconda parete con la seconda cerchitura.